Ciao ragazzi siamo tornati con lo shop, un bel like al video per supportare il canale vediamo che cosa c'è di bello di nuovo più che altro allora qua è rimasto tutto com'era, Deadpool, Wolverine, Lethal Company, i pirati sono rimasti andiamo subito allo stile distintivo con cartuccera 1200 V-Buck, un solo stile e poi allora balziamo avanti con armadillo 800 V-Buck, anche lui un solo stile poi abbiamo luci della ribalta, invece due stili predefinito e il secondo stile invece rosa, azzurro, carina dietro alla schiena lo spicchio di limone in due colori, anche questo giallo e viola, lilla quello che è e poi andiamo avanti e abbiamo percussori acidi, non mi soffermerai su questi piccotti qua la wrap ultra aspro 500 V-Buck e mica 1200 V-Buck, un solo stile, non è male questa skin ci sta, ci può stare dentro al mucchio per 1200 V-Buck, ancora il ballo nuovo super tossico raga secondo me niente lacrime, poi abbiamo il bundle Dragon Pilota che è quello ranked, insomma più saliamo di ranked e più abbiamo stili diversi, soltanto la skin 1500 con invece la fetta rottami, solo la fetta rottami invece 800 V-Buck, quindi si risparmia, si risparmia qualcosina prendendolo tutto insieme, i super eroi sono rimasti, basta finito, questo era lo shop di oggi, vediamo se si è aggiunto qualche bundle, c'è le tracce gem di Billie Eilish, è tornata Billie Eilish rossa e nera quindi ci stiamo avvicinando diciamo alla fine del Festival di Metallica, dovrebbero andare via il 16 raga non il 6, errore mio e quindi penso che si avvicinano come ogni volta tutti i cantanti chissà magari tornare anche Lady Gaga tra poco, andiamo un attimo a rivedere Billie Eilish perché non ho guardato il prezzo, 1500 le tracce gem, cioè tutte e due, le serie di icone, le due tracce gem, 500 prese singole invece Billie 2003 tutto il bundle, 1500 soltanto la skin con lo stile cappello senza cappello, la chitarra 800 V-Buck, lo zenetto 400 V-Buck che è reattivo, mi sembra che va giù il cappuccio al cagnolino e poi invece la batteria 800 V-Buck, ci fermiamo qui raga like cozzo, mi raccomando per supportare il canale codice creatore sempre attivo vander-altoclip, noi ci vediamo domani in live o oggi a seconda di quando guardate il video alle 15 e 30 del pomeriggio, quindi 3 e mezza sia sul viola che qui su youtube, ciao! Ciao!